Perfetto. Allora, parliamo quindi di Genoa-Inter, partita che si disputerà domani, sabato 25 luglio alle ore 19.30 allo Stadio Marassi. L'Inter viene da due pareggi consecutivi contro la Roma e contro la Fiorentina, due partite molto diverse. Contro la Roma l'Inter era partita abbastanza bene, poi ha sofferto anche la rimonta dei giallorossi che stavano per portarla a casa e poi per fortuna è riuscita a raggiungere il pareggio grazie a un rigore anche abbastanza fortunoso arrivato nel finale. Contro la Fiorentina è stato un pareggio a reti bianche, 0-0, ma nel quale l'Inter ha fatto comunque un'ottima partita, le è mancato sostanzialmente solo il gol, però purtroppo è arrivato un altro pareggio, quindi la gara di Genova adesso diventa ancora più importante in vista del finale di stagione, l'Inter ha ancora modo per poter arrivare seconda e quindi affronterà sicuramente la gara di Genova con la volontà di andare a strappare i tre punti. Le ultime di formazione in casa Inter riportano il probabile ritorno alla copia d'attacco Lautaro Martinez-Lukaku, quindi la famosa Lula, la copia titolare per Antonio Conte, con Eriksen alle loro spalle, sempre più quindi verso la conferma a discapito di Borca Valero. A centrocampo Barella è squalificato e quindi giocherà molto probabilmente Brozovic di fianco a Gagliardini, giocheranno loro due, mentre sulle fasce dovrebbe esserci Moses a far rifiatare Candreva e dall'altra parte Ashley Young. In difesa Stefan De Vrij riposerà perché si è infortunato durante la gara contro la Fiorentina, non è nulla di grave il problema che ha avuto, ma per sicurezza almeno una barra due partite De Vrij rimarrà fuori e in questo senso Ranocchia scalpita per una maglia da titolare perché è entrato già contro la Fiorentina, ha fatto molto bene e quindi si candida in maniera molto forte per una maglia da titolare. Poco fa ha parlato Antonio Conte, come dicevo, e ha presentato la sfida contro il Genoa, quindi vi mostrerei le parole del tecnico che ha detto delle cose interessanti anche per quanto riguarda la figura di Christian Eriksen, quindi dovremmo esserci. Allora, ok. Allora, le parole di Antonio Conte. Il titolo dice appunto Eriksen, i risultati arriveranno, turnover obbligatorio, in Europa arriveremo stanchi. Quindi è già abbastanza preoccupato Antonio Conte per quello che sarà il cammino europeo dell'Inter che arriverà naturalmente dopo diverse partite consecutive, più di un mese di partite consecutive, quindi non sarà assolutamente facile. Vi dicevo però che importanti sono le parole su Christian Eriksen, che trovate qui. Lui dice, ecco la Fiorentina ha fatto un ottimo primo tempo, ormai si è inserito e sta cercando di dare il meglio. La frase più importante però è questa. Noi stiamo cercando di metterlo nelle migliori condizioni per poterci riuscire, quindi sostanzialmente conferma il fatto che la scelta di passare al 3-4-1-2 fosse dettata dalla volontà di permettere ad Eriksen di entrare nel miglior modo possibile nella squadra. E soprattutto Antonio Conte spiega che gli ha dato ad Eriksen la libertà totale di giocare come più preferisce fra le linee. Infatti dice appunto dietro le punte può fare quello che vuole, lui poi diceva può avvicinarsi al centrocampo per ricevere, può svariare un po' su tutto il fronte della tre quarti. Quindi sostanzialmente Conte conferma il fatto che Eriksen già oggi è sostanzialmente il faro dell'Inter e quindi di fatto conferma anche che l'anno prossimo, nonostante alcune voci che stavano circolando recentemente, Eriksen rimarrà all'Inter e sarà ancora di più uno dei punti di riferimento della squadra. Per quanto riguarda poi l'Europa, come dicevo prima, Conte diceva il 5 agosto ci giochiamo il passaggio del turno, mentre, e questo è un fattore importante, le nostre prossime avversarie Napoli e Atalanta avranno più tempo, perché effettivamente Napoli e Atalanta che giocano in Champions avranno le loro gare europee circa una settimana dopo rispetto all'Inter e quindi anche le scelte di formazione nelle ultime di campionato saranno inevitabilmente diverse fra quelle che farà l'Inter e quelle che faranno proprio Napoli ed Atalanta. Venendo poi alle probabili formazioni, ve le mostro subito, ci sono come dicevo prima delle novità, delle novità dettate sia da necessità di turnover per quanto riguarda le squalifiche e gli infortuni, sia per quanto riguarda alcune scelte tattiche del mister. Quindi ve le mostro immediatamente. Come dicevo prima, quindi, le probabili formazioni di Genoa e Inter le trovate qui. Genoa col 4-4-2, Perini in porta, Biraschi, Goldaniga, Zapata e Crescito in difesa, Ghiglione, Schöne, Giaciello, Barreca a centrocampo e coppia d'attacco Pinamonti-Favilli. Inter che invece si schiererà con un 3-4-1-2, con Andanovic in porta, Skriniar, Ranocchia. Ranocchia è la prima novità di questa partita, lo dicevamo prima, De Vrij riposerà, riposerà perché ha avuto un problema al ginocchio e quindi Antonio Conte non vuole rischiare di aggravare il problema e perderlo anche per l'Europa League, quindi lo terrà riposo almeno per questa partita. Skriniar, Ranocchia, Bastoni, Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young. Candreva in realtà, come dicevo prima, è in ballottaggio con Moses, quindi potrebbe riposare anche lui in virtù del nigeriano che è rientrato da poco dall'infortunio e poi in attacco il trio delle meraviglie, l'ho ribattezzato una volta io, Eriksen alle spalle di Lukaku e di Lautaro Martinez che torna a titolare appunto al fianco del gigante belga, quindi torna alla Lula. L'Inter dovrà cercare di portare a casa i tre punti perché sono fondamentali anche nella prossima partita e Antonio Conte, per farcela, punterà proprio sul suo attacco titolare con Eriksen alle spalle di Lukaku e Lautaro. Fateci sapere naturalmente che cosa ne pensate voi nei commenti, iscrivetevi al nostro canale YouTube se ancora non l'avete fatto e seguiteci anche su tutte le nostre piattaforme di podcasting come Spreaker, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast.